Riccardo, sei il più scarso oggi, è sicuro questo, vinci, sei vero che c'è la prima maglia nera? Poi tiriamo fuori il rampino e mi aggancio, ma così quando ti attacco il brutto. All'estepano, 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 all'estepano. Ciao a tutti ragazzi, il capitano di P eventi del pendolo, oggi è mercoledì 3 agosto 2022, siamo qui a volarne e pronti per la terza sfida eventi del pendolo. La grande sfida eventi del pendolo, il mondiale eventi del pendolo, oggi siamo pronti ad affrontare la Strava Challenge della Perifossi, una salita di 9 km con vendenza media del 9%, una salita per campioni bisogna dire, però le sfide di oggi sono due, una per i classi amatori, sfegattati, quelli montati, e poi un'altra sfida con il campionissimo Eduardo Zardini, professionista della Drone Hopper che tenterà di battere il suo record, il record mondiale sulla Perifossi, riuscirà o no ad andare sotto i 30 minuti? Commentate qui sotto. Dai ragazzi, ora siamo pronti, sono qui con il mio cameraman che sta registrando, che oggi fa da motostaffetta e da giudice principale, andiamo per i per la grande sfida, ci vediamo dopo. Casco ben indossato, stimiamolo qua un attimo bene, siamo pronti ad andare a sentire i nostri protagonisti, cosa hanno a dire, le loro sensazioni. Via, vamos, 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 vamos. Ragazzi, 30 minuti via, abbiamo trovato Elia Belè lungo la strada e ci ha chiesto di fare un po' di dietro moto, cosa fai? Rinunci! Mai volar, mai volar! Eccoci qui ragazzi, il capitano è arrivato a volarne, siamo in anticipo e ora attendiamo i riders. Eccolo qua ragazzi, il favorito di giornata, Daniele, che ha vinto la Negrar Montecchio, sensazioni per oggi, come ti senti? È un po' leggermente più lunga, leggermente più dura. Un po' male anche perché le gambe sono un po' due tocchi di legno. Ma dai, la bici è leggera, tutto pronto, vediamo dopo come va a finire, vediamo dopo. Siamo qui con lo sponsor, il riff è sempre presente. Giovanni, cos'hai da dirci oggi? Punti o porti la bici a spasso? Controllato un po' la bici, poi tiriamo fuori il rampino e mi aggancio, così quando ti attacco il brutto. Simone Logica è il favorito, oggi manca il fratello, quindi niente gioco di squadra. Come affrontiamo questa solita? Qual è la tattica di oggi? Oggi bisogna stare attenti, attenti, vedere cosa fanno gli altri e risparmiarsi per il finale. È lungo oggi, non bisogna rischiare, attacchi, dimizio. Mai mollare, mai mollare. Riccardo, sei il più scarso oggi. È sicuro questo? Sei vero che c'è la prima maglia nera? Eh, così vado a casa con la maglia nera. Lo vinciamo oggi, lo vinciamo. No, 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 devi tenere questa, è di più, è di più, non sbagli. Calza del capitano e non si sbaglia mai, non si sbaglia. Elia, anche oggi in un video del capitano per la cento settantesima volta. Com'è? Bene. Buon riscaldamento a 40 km. Lavoro? A che ora è finito il lavoro oggi? 5,5, 5,5. Però per edip questo è l'altro. Questo è l'altro, cavolo. Questo è l'altro. Anche oggi c'è lo sponsor là che ci osserva. Eccolo là. Quindi occhio, prestazione, almeno nei primi tre, perché se no basta sponsor. Prima della cima. Edoardo Zardini presente. Cosa si può fare oggi? Ah, niente, a partecipare, a fare le compagnia. Bravo, bravo. Questo è il vero spirito dello sport. Allora gli atleti sono andati avanti una ventina di metri, si girano per prendere tutto il segmento strava. Eccoli qua stanno arrivando, sono pronti a partire. Mai mola, ragazzi, mai molare l'adrenalina sale. Vai, vai, via, 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 che è lunga, via, via, via. Due motostaffette, ragazzi, e una macchina. Di sicuro già dopo un chilometro il gruppo sarà tutto frastagliato e sformeranno varie coppie, massimo gruppi da tre, secondo il capitano. Com'è, com'è? Dura, vizia dura. Volevo ricordarvi, ragazzi, che oggi ci sono ben due donne. Ale, Claudia, lei sei a metà. Ale, Ale, dai che l'è finita, sono nove chilometri. Dai che l'è finita, quanto manca? Nove chilometri, Ale, Ale. Mai mola, mai mola, mai mola. Ale, Stefano, Ale, 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 Stefano, Ale, mai mola, mai mola. Beh, non ti rive, il mio ultimo, dai. Che gente coraggiosa, anche a mountain bike, percivo gli altri. Ale, 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 mountain bike, Ale. Il motostaffetto è numero uno, mai mola, mai mola. Oh, ma qua abbiamo un atleta alla Davide Formula. Andiamo sui primi. Ragazzi, c'è l'asfalto nuovo. Adesso andiamo su Edoardo Zardini, sta planando, letteralmente planando. Prima che finisca il video, commentate con il suo possibile tempo e vediamo come è messo. Sei in crisi o si pedala ancora bene? Sta volando, sta volando. Niente, dopo aver visto Edoardo, c'è un formato qua sul tornante. Aspettiamo mezz'ora di attaccare i miei primi perché è disumano oggi ragazzi, è disumano. Ale, 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 ale. Sono passati i primi Roberto Benedetti e Simone Logica, fratello del campionissimo Enrico, che stanno andando sui regolari ancora, tranquilli tra virgolette, però ce la giocheranno bene perché entrambi i pedalatori. Però volevo dire che farla per i fosse in moto, la mia è così tanto dura, anche l'asfalto nuovo sta veramente bene, senza sfarpadiga. Ale, lia, sei terzo, ale, 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 Simone, ale. In questo momento il primo pendoliano è Enrique dall'Ecuador, invece è primo degli uomini, Simone Logica. Giovanni, com'è? Ale, ale, Zardini ti dico solo che sta volando. Con questa vista sei fantastico, sei super per una foto e tutto, vai foto. E niente, com'è l'asfalto nuovo? Com'è? Ale, 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 ale. Simone Logica staccato a Roberto, attenzione! Concentratissimo, mi scusi signor Logica, se l'ho disrubato per fare alcuni video, mi scusi, se sono in moto con storia della fatica, mi scusi ancora. C'è anche il papà del campionissimo, ragazzi, pronto a supportarlo! Siamo qui circa l'ultimo chilometro, ho appena affiancato il papà di Edoardo Zardini, dicendo che anche secondo lui il figlio sta volando, vediamo che tempo farà. E mi ha anche detto che ha una ventina di bottiglie di zardo, che è il vino che producono loro in casa, in famiglia, da dare a ogni partecipante. Grandissimo, grande gesto, maimola ragazzi, alle sfide di P only quality. Ale, Simone, ale, 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 ale. Ultimo chilometro quasi, ale! Niente, Simone ha deciso di staccare definitivamente l'avversario sul pezzo duro, e ora direzione arrivo. Ale, Simone, ale, ultimi metri, ale! È fatta, è fatta ancora una volta per il fratello del campionissimo Logica, ossia Simone Logica! Grande via Belen ragazzi, che banca è su strada, non solo mountain bike come pensavano tutti, terzo classificato. Ale, ringale, ale! Per l'Equador questo altro, saluta l'Equador! Saluta l'Equador! A lei, Riccardo, a lei, a lei, che alla fine non è niente, ho fatto questo tanto schifo! Si è andato bene, bravo! Vai, vai! Faccio il braccio in cielo! Madonna, che volata, che volata! Eccolo qua, Simone Logica vincitore. Il fratello del campione, ma adesso è anche lui il campione. Dura. Si è gestito, tattica. La tattica è saltata in aria subito. Ho visto che riuscivo ad andare via, tipo, fuori soglia tutto il tempo e allora via. La gamba era buona, la gamba era buonissima, ragazzi, via! Ora, testa, la prossima cronoscalata. Esattamente. Ma Stefano, dura! 316, va! Diversa da quale Montecchio, è la più dura da vincere. Durissima. Prima dei pendoliani, dedica l'Equador, cosa vuoi dire oggi? Vada, dedico l'Equador. Te l'aspettavi che sei partito per ultimo, con calma, regolare? Sto riprendendomi piano piano, quindi dai, fine stagione manca ancora. Si vola, fine stagione, vinciamo a gran fondo. Qua, Riccardo, che volate hai fatto? Ti ho spronato, grazie a me. Sì, sì, guarda. Che mi dicevi, non devi stare solo sugli ultimi, cioè solo sui primi, qua e là. Poi ho visto quello davanti, perso da testa, Rizzo. Mai mollare, mai mollare, mai mollare. EDP, mai mollare. Enrique, bisogna dire, c'è stato un problema. Lo mettiamo nel video, abbiamo sbagliato. Niente, però dai. 6 secondi dei pendoliani, prima un'altra, è nuovo, quindi era un talento sconosciuto. Pazienza, pazienza, arrivarà la vittoria. Comunque è il secondo, dai. Eccolo qua, Roberto, nuovo talento, com'è andata oggi? A ruota del fenomeno Simone Logica. Che te non la conosci mica Simone, ma è un fenomeno, c'è riuscito a tenere la ruota. Non conosco neanche la salita, ora la conosci. Non la conosci, però sei riuscito a fare un'ottima prestazione, mai mollare. Ora ti aspettiamo alla prossima cronoscalata. Elia, è andata. Bene, bene. Il bello fa l'amore, però, eh. Ti fa verità. Era dura. Durissima. Mi guardo con Eduardo Zardini, ora abbiamo attuto il combo. Abbiamo attuto. Sì, combo a tutto. Che tempo hai fatto? Ben sui 28,50. Watt medi, dacci un po' di dati. Qua Davide Formula da casa era interessatissimo. 406 watt medi, quasi 1.6 di watt. Basta ragazzi. Disumano, disumano. Eccolo, 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 eccolo. Zolta è sua figlia. Lea, 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 lea. È corso. Madonna, guarda. È il mio procuratore, venga. Prenda una barretta adesso del pacco gara, unita alla bottiglia che è per tutti, che però dovete recuperare l'altro giorno, perché invece è dura portarla a casa. Giovanni, con la vista, con la vista, barretta con la vista. Grigio. Una bottiglia per tutti, ragazzi. L'ultimo è arrivato. Deve ancora arrivare o è arrivato? Non mi viene a gaffiare e parlare. Eh, madonna. Dura, così dura. Su, sciolti. Emo ci ha colato tutto il tempo. Questo è il vero sport, questo è il vero sport. Dai, proviamo la barretta. E qua, maglia nera, mostra il premio, mostra il premio. Onorato di indossare, di avere guadagnato la maglia nera, il vero trofeo di oggi. Vi sono proprio divertito, eh. Top, top. È bianca, visto, c'è. Però è uae, oh, conta. Cosa hai da dirci qua, Braulio? Eh? Cosa hai da dirci qua? Oggi non avevo la gamba. Però, però, porta vorracce nuovo, ragazzi. Esatto. Shimano, che marca è questo, porta vorracce? Eh, Shimano, Durei. Grazie a tutti, ragazzi, e mai molare, mai molare. Comunque, ragazzi, con questa clip voglio concludere il video dicendovi che oggi era presente Edoardo Zardini, ossia uno dei primi soci di Venti del Pendolo con cui ho fondato il progetto. Quindi, da dove è tutto partito, oggi ci siamo riconciliati. Buona serata da fosse qua al fresco, tra virgolette, mai molare, e avanti tutta. Alla prossima sfida. Alla prossima sfida.